Venezia, prima riunione in prefettura del tavolo di coordinamento permanente per il contrasto al caporalato e dallo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La prima riunione ha visto la presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine e degli organismi di vigilanza che vanno dall'INAIL alla Direzione Territoriale del Lavoro all'ASL. L'impegno, attraverso una maggiore collaborazione tra i vari soggetti e la piena integrazione dei lavoratori stranieri stagionali e la repressione delle situazioni illegali. Si è deciso anche di mappare il territorio, con particolare riguardo ad alcune aree del Chiogiotto Cavarzarese, del Veneto Orientale e del Milanese, dove è maggiormente sviluppata l'attività agricola.